Il caso sagra del mandorlo in fiore e gruppi esteri in anticipo ad Agrigento, conferenza stampa del sindaco Marco Zambuto. Il consigliere comunale di Agrigento Giuseppe Di Rosa convoca la stampa sulla fondazione Pirandello e le relative stagioni lirico-sinfoniche. L'Udc di Casini nel centro-destra, in Sicilia tensioni nella maggioranza, Lillo Firetto assicura in Sicilia non cambia nulla, ruolo da il bentornato a Casini. Dopo la brillante vittoria contro lo sciacca sono ripresi gli allenamenti dello Sporting Ragalmuto in vista del derby di domenica prossima a Aragona. Ben trovati al TG 98. Questa mattina, come avete sentito dai titoli di apertura, il sindaco di Agrigento Marco Zambuto ha convocato la stampa per riferire sul caso sagra e i gruppi esteri arrivati in anticipo ad Agrigento. Sentiamo. Ha presentato questa mattina una denuncia all'autorità giudiziaria per produzione di documento falso il sindaco di Agrigento Marco Zambuto. Un documento che il sindaco è venuto in possesso ieri pomeriggio dove si invita il gruppo della Bulgaria a partecipare alla saga del mandorle in fiore 2014 su carta indestata alle comune di Agrigento e con la sua firma che lui disconosce. Zambuto esclude anche che l'email sia partita dagli uffici del comune di Agrigento. Una denuncia contro ignoti che potrà avere anche ripercussioni penali per chi ha prodotto il documento. Il sindaco ha anche affermato questa mattina in conferenza stampa che si è tenuta nella sua stanza che il comune si costituirà parte civile per il danno che ha subito l'immagine della città. Sono venuto in possesso ieri pomeriggio di un documento che riportava la mia firma e che era identico diciamo ad un documento comunale e ho immediatamente denunciato dall'autorità giudiziaria la falsità di questo documento. Ho chiesto l'accertamento della responsabilità penale che quindi venga individuato l'autore di questo falso e ho già annunciato che il comune di Agrigento si costituirà parte civile per il risarcimento del danno all'immagine che questa vicenda ha portato alla città di Agrigento. Voglio sottolineare come si tratti di qualche benpensante che ha voluto fare qualche bravata, chiaramente sempre spinto da un punto di vista politico per cercare di fare danno al sindaco non comprendendo il danno che ha fatto all'immagine della città e di cui ne risponderà. Si è cercato di colpire il sindaco senza capire che ad essere maggiormente danneggiata è l'immagine della città. Questa è la spiegazione del sindaco sulla vicenda. C'è dietro il tentativo come sempre, non comprendendo e non avendo la dimensione di ciò che si fa, dicevo c'è sempre il tentativo di voler utilizzare specularmente per fare danno al sindaco. Ormai in questa città viviamo un clima da parte di pochi, onestamente di una minoranza sparuta, così marginale che però distilla solamente odio e veleno. Per cui qualunque cosa è buona pur di andare contro il sindaco, non comprendendo che su questa vicenda il danno che hanno fatto è un danno alla città e di cui ne risponderanno penalmente e di cui ne risponderanno anche per un danno all'immagine da un punto di vista economico ne risponderanno per il danno all'immagine che hanno causato alla città. Il sindaco di Calatafimi, Nicolo Ferrara, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di corruzione, falsità ideologica e turbativa d'asta. Con Ferrara sono stati arrestati anche due imprenditori palermitani, Ettore ed Enrico Chisafulli, che devono rispondere di indestazione fittizia dei beni. Il GIP è disposto per tutti i domiciliari. L'inchiesta, coordinata dalla procura di Trapne e svolta dalla squadra mobile, è stata avviata a seguito della denuncia di un dipendente dell'impresa Edile Simaco, gestita dai Chisafulli. La società aggiudicatrice dei lavori di urbanizzazione primaria di Contrada Sasi a Calatafimi. L'indagine non ancora conclusa e coinvolge altre otto persone. Tra queste ci sono anche alcuni dipendenti comunali. C'è il sospetto della mucca pazza per la morte di un operaio avvenuta all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. L'uomo, 46 anni, agricoltore di Palma di Montechiaro, è deceduto lunedì pomeriggio nel reparto di neurologia dove era arrivato qualche settimana fa dopo aver consultato vari specialisti che però non erano riusciti a quanto pare ad effettuare una diagnosi certa. Il quadro sintomatico del paziente avrebbe lasciato pochi dubbi al primario nisseno Michele Vecchio e alla sua echipi per i quali la morte sarebbe da addebitare alla malattia di Kuzfeld-Jakob, sindrome neurodegenerativa rara che conduce ad una forma di demenza progressiva e dall'esito fatale. Ed è proprio per verificare se si tratta di un caso di mucca pazza che la salma dell'uomo è stata trasferita a Ragusa per accertamenti. Il consigliere comunale, vicepresidente del consiglio di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, ha indetto una conferenza stampa presso i locali dell'ufficio di presidenza del comune di Agrigento per affrontare con la stampa gli argomenti teatro Pirandello e stagioni lirico-sinfoniche. Sentiamo. Da quando è nata la filarmonica non mi era ancora interessato però la seguivo onestamente sulla stampa, la seguivo con le conferenze stampa del sindaco in quanto presidente della fondazione e del direttore artistico, del direttore che è il professore Muglia. Hanno nominato a costo zero, ebbero già pubblicizzarlo, un direttore artistico, Tal Gallina, che nel mondo della musica era conosciuto, lo hanno presentato come un grande professore, hanno iniziato le selezioni per la filarmonica. La filarmonica l'hanno presentata come un evento storico per Agrigento perché in quel momento nasceva la filarmonica della fondazione Teatro Pirandello. Nessuno mai ha detto che queste persone venivano ed erano associate a un'associazione tal de tali e poi suonavano per la fondazione. Assolutamente no. Io per primo sapevo che avevamo la nostra filarmonica. Io quando entravo e li vedevo andare il professore alle prove mi sono intrattenuto con un paio di loro e mi dicevano che suonavano per il Teatro Pirandello. Sono stati all'estero, rappresentavano il Teatro Pirandello, la fondazione Teatro Pirandello. Invece oggi si scopre che i pagamenti, quando dichiara il professore Muglia, venivano elargiti a un'associazione della quale rispondeva il professore Gallina, che in un primo tempo si disse che era il consulente gratuito del sindaco del teatro con la responsabilità di direttore artistico, e invece oggi si scopre che venivano elargite a lui. I compensi a questi signori, attenzione, compensi tra virgolette che si erano tutti raccordati per un compenso solo per le spese vive di trasporto. Queste persone non devono avere chissà quali somme perché hanno lavorato, assolutamente, però se poi le assommiamo che sono 250 euro per ogni prestazione che facevano, per una produzione, si sono sommate circa 7-8 produzioni in due anni, non hanno mai riscosso nulla di questi soldi. Il problema dove sta? Il problema sta al fondo. Perché la fondazione utilizzava per il pagamento un'associazione che non è un'associazione riconosciuta oltretutto, è un'associazione che in qualsiasi momento poteva sparire. Oggi so che alcune televisioni private e siti locali non riescono a riscuotere i pagamenti neppure delle fatture da parte di questa associazione. Perché questa associazione doveva servire da matriosca per la fondazione? Assolutamente no. Parlando di erogazioni pubbliche, a che titolo sono stati erogati questi fondi a questa associazione? Ma questo è uno dei punti che adesso chiederò io con fermezza. Voglio immediatamente da parte della fondazione il riscontro contabile e come sono stati erogiti i contributi. A che titolo, perché è, cosa non indifferente, voglio il rendiconto di queste somme. Perché per un'associazione riscuotere da una fondazione che seppure potrebbe essere, dicevano loro, privata assolutamente sotto la gestione del Comune del Grigento, devono portare delle pezze d'appoggio che potrebbero essere anche le relative dimostrazioni di riscontro di spese per i professori, per i cantori, per tutto quello che è attorno a una produzione teatrale. Ad Grigento, in via Manzoni, tre banditi, uno a volto scoperto e due travisati, hanno rapinato l'agenzia della banca Montepaschi di Siena. I tre, apparentemente non armati, hanno arraffato circa 7 mila euro. Indaga la squadra mobile. Ad Grigento, in via Unità d'Italia, i carabinieri hanno arrestato i fratelli Alfonso e Carmelo Fragapane. Carmelo, 42 anni, travisato con un casco e armato di pistola, ha rapinato 90 euro minacciando un cassiere al supermercato il centesimo. L'uomo è fuggito a piedi, inseguito da alcuni dipendenti e poi dai carabinieri. Alfonso Fragapane, 49 anni, in attesa del fratello nei pressi di un distributore di carburante, si è scagliato contro i carabinieri e usando il casco contro l'automobile di servizio, nel tentativo di sottrarre il fratello all'arresto. La pistola è risultata giocattolo. Carmelo è in carcere, Alfonso ha i domiciliari. A Sciacca, in via Giuseppe Licata, gli otti hanno sabotato l'impianto di allarme con della schiuma espanza. Poi con una mazza hanno rotto una vetrina e poi dalla gioielleria schittone hanno rubato un solo gioiello, forse perché si sono intimoriti del tanto rumore provocato e quindi del rischio dell'intervento delle forze dell'oltre. I carabinieri hanno arrestato domiciliari ad agrigento sane Maktar, 39 anni, originario del Senegal perché ha rubato un indicatore di direzione da un'automobile e poi si è scagliato con violenza contro il proprietario dell'auto, un poliziotto penitenziario che lo ha scoperto e contro i carabinieri nel frattempo intervenuti. Sane Maktar risponderà anche di furto di energia elettrica per allaccio abusivo nella propria abitazione. I carabinieri delle nucleo operative radiomobile della compagnia di agrigento hanno bloccato in tempo un automobilista distratto, un uomo di Favara che ha imboccato contro mano la statale 640 a bordo di una Peugeot 307 Station Wagon in direzione Caltanessetta. L'auto è stata sequestrata perché è sprovvista di assicurazione e revisione. I gnoti ladri indisturbati in piena notte hanno rubato 12 capre girgentane note per la forma delle corna attorcigliate a forma di spirale e 40 agnelli da un appezzamento agricolo con ovile e terreno annessi in Contrada San D'Agata nelle campagne di Montaperto. A fare la scoperta il proprietario che ha chiamato i carabinieri della stazione di Montaperto che stanno indagando. L'elicottero EH101 della nave Amfibbia San Marco stamattina ha individuato a sud est di Lampedusa 4 imbarcazioni con a bordo oltre 450 migranti. Il pattugliatore Vega inoltre ha individuato a sud est di Lampedusa un'ulteriore imbarcazione con circa 100 migranti a bordo. Constatata la scarsa galleggiabilità e il sovrannumero di persone a bordo, la nave Vega, reso noto la Marina Militare, ha dichiarato la situazione di emergenza ed è attualmente impegnata nel soccorso. I carabinieri di Sciacca hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Sciacca nei confronti di Morrione Donato, pregiudicato 55enne di Sciacca che si trovava detenuto presso la casa di cura Santa Maria del Giglio in regime di arresti domiciliari. Il Morrione è stato raggiunto dal provvedimento restrittivo perché il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha rigettato l'istanza avanzata dallo stesso per l'applicazione di misura alternativa alla detenzione dopo essere stato riconosciuto colpevole del reato di circonvenzione di persone incapaci in concorso. Il processo che lo vede condannato in via definitiva ha origine dall'indagine condotta dai militari della stazione di Sciacca portata a termine il 19 dicembre 2012 nell'ambito di un'operazione di servizio denominata Argante proprio perché le somme storte alla vittima erano destinate a pagare le cure sanitarie di un paziente fin di vita, in realtà mai esistito. Morrione è tornato in libertà nel 2008 dopo aver scontato la pena di 14 anni per omicidio, adesso dovrà scontare la pena residua di 2 anni e 5 mesi di reclusione. Il Tribunale di Agrigento a conclusione del giudizio abbreviato ha condannato 8 mesi di reclusione ciascuna i favoresi Lillo Pollicino, 29 anni, Francesca Fanara, 57 anni e Salvatore Sicilia, 29 anni, arrestati in flagranza di reato in contrada Stefano Bagli dove si sono introdotti all'interno di un'abitazione di campagna il cui proprietario è il residente in Francia. Hanno svaliggiato la vita accatastrando al piano terra gli oggetti trafugati pronti per essere caricati su un furgone. L'intervento dei carabinieri è stato tempestivo. Il Tribunale di Sciacca ha condannato a 3 mesi di reclusione Angelo Sostegno, 54 anni di Butera e residente a Bologna, perché avrebbe esercitato abusivamente la professione di medico chirurgo specializzato in ortopedia, effettuando soprattutto a Menfi visite mediche e prescrivendo terapie, spesso strumentali, a 12 persone, una delle quali a processo si è costituita parte civile. L'inchiesta è scattata nel 2009 a seguito di un esposto presentato dai medici di famiglia. In Stato di Libertà sono state denunciate dai carabinieri della Compagnia di Camarata, tre persone nell'ambito dell'applicazione della normativa del 2006 sul trasporto di rifiuti non pericolosi, senza iscrizione nell'apposito albo delle imprese operanti nel settore. Si tratta di AA, le sue iniziali di 32 anni, LSR 30 anni, LME 33 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine, abitanti a Mussomeni. I predetti sono stati fermati e controllati sulla strada statale 189 all'altezza della località Italcali. Agro di Caste Termini a bordo di un autocarro Iveco Daili, con circa 20 quintali di rifiuti non pericolosi, composti da materiale ferroso, senza essere muniti delle prescritte autorizzazioni di legge. Conseguentemente i carabinieri hanno sottoposto a sequestro sia il veicolo che il relativo carico, deferendo i tre alla Procura della Repubblica di Agrigia. Bene, adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, subito dopo. L'Udc di Casini nel centro-destra, in Sicilia tensioni nella maggioranza, Lillo Firetto rassicura in Sicilia non ne cambia nulla. Ruvolo dà il benvenuto a Casini, ma seguiamo i particolari nel servizio di Niccolò Giangreco. Altra grana per il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta. Questa volta il problema è politico e riguarda il ritorno nel centro-destra dell'Udc di Casini, che nell'isola sostiene la Giunta assieme al PD e ad altre forze minori. A sollevare la questione sono due big del PD siciliano, il capogruppo all'Assemblea regionale Baldo Gucciardi e il renziano Fabrizio Ferrandelli, deputato regionale. Negli anni passati la politica del centro-destra ha prodotto in Sicilia danni profondissimi, le cui conseguenze emergono oggi in tutta la loro gravità, afferma Gucciardi, che avverte. L'alleanza fra PD e Udc alle scorse regionali era fondata proprio sulla volontà comune di voltare pagina. È evidente che se a Roma si sancissero nuove alleanze stabili che vanno nella direzione opposta al nostro progetto, un minuto dopo il PD siciliano aprirebbe un ragionamento sulla maggioranza che sostiene il governo regionale. Ancora più netto, Ferrandelli, l'abbraccio di Casini con Berlusconi pone l'Udc siciliana fuori dalla maggioranza di governo della regione. Per il renziano la politica è il regno del possibile e la Sicilia laboratorio politico per antonomasia, ma non si governano i processi di cambiamento con l'ambiguità, l'incoerenza, le geometrie varabili e maggioranze camaleontiche in giro per l'Italia. Le persone non lo capirebbero e Dio per primo aggiunge. Ferrandelli chiede pertanto una verifica urgente di maggioranza. L'Udc ha scelto di costruire la nuova destra, sottolinea, e il PD siciliano ne deve prendere atto. In Sicilia per noi resta valido l'esito del dato elettorale regionale che ha dato vita al governo Crocetta con il PD e con il contributo determinante dell'Udc. E' il capogruppo dei centristi all'AS, Lillo Firetto, ad escludere ripercussioni sulla regione a seguito del riposizionamento del suo partito a livello nazionale. Firetto risponde indirettamente al deputato renziano del PD Fabrizio Ferrandelli che ha chiesto l'uscita dell'Udc dalla maggioranza a Lars. Non tradiremo gli elettori, speriamo che non lo facciano neppure gli altri, che non lo faccia il presidente. Poi tutto può accadere. Già Lombardo ha sovvertito il risponso delle urne, ma non voglio credere che possa accadere ancora. Sarebbe grave oltre che illogico, conclude Firetto. Il ritorno di Casini nel centro-destra è una buona notizia per i moderati italiani. Rimane comunque il rammarico di una scelta tardiva che, se compiuta le scorse elezioni politiche, avrebbe dotato il Paese di un governo stabile e di un Parlamento forte. Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Giuseppe Rubolo, commentando la decisione del leader dell'Udc di allearsi con Berlusconi. Lungi da ragionamenti di potere, l'attuale esecutivo, per la sua natura meticcia, rimane sempre più esposto agli estremismi, ai consociativismi e alle scosse della crisi. Per questo occorre che Casini, con una sorta di ravvedimento operoso, conclude Rubolo, tolga il sostegno a Letta a Roma e a Crocetta a Palermo, chiudendo il sipario su accordi innaturali che stanno producendo soltanto stallo e sfascio tipici delle mezze scelte che, per accontentare frange politiche diverse, deludono tutti i cittadini. E' il senatore di Forza Italia, Giuseppe Rubolo, e il nuovo ospite del nostro settimanale a Tu per Tu, in onda sulla nostra emittente domani sera alle ore 21 e in replica il venerdì alle ore 15 e 40, il sabato alle ore 23 e la domenica alle ore 15 e 20. Il premier Enrico Letta parteciperà giovedì 6 febbraio alla direzione nazionale del Partito Democratico. Vuole un confronto diretto e pubblico con il segretario Matteo Renzi, a cui chiede sostegno e l'indicazione di ministri da inserire nel prossimo governo. Il presidente del Consiglio Enrico Letta vuole dal suo segretario Renzi il massimo sostegno al governo e per questo parteciperà giovedì alla direzione nazionale del PD. Il sindaco di Firenze ormai è pressato da più parti a partecipare al rimpasto, indicando suoi esponenti nell'esecutivo, oltre al plenipotenziario Graziano Del Rio, dato come nuovo ministro degli interni. Alfano infatti sarebbe pronto a rinunciare al biminale, restando vicepremier, per dedicarsi al suo nuovo centrodestra in vista delle europee. Se il nuovo PD Marcato Renzi dovesse ancora defilarsi, Letta sarà costretto a un riequilibrio soft già il giorno dopo la direzione PD, il 7 febbraio. Diversamente di rimpasto si parlerà comunque entro fine mese, quando il percorso parlamentare della legge elettorale sarà compiuto, almeno a Montecitorio. Regionali in protesta contro la finanziaria. Regionali in piazza Palermo contro la finanziaria. Il taglio dei capitoli e il bilancio colpisce precarie e operatori degli enti della regione siciliana. Ma i sindacati non ci stanno. Questa mattina la protesta è arrivata a Palazzo d'Orleans con Cobas e Sadis e all'assessorata dell'economia, dove alcuni sindacalisti di CGL e Cisle Will si sono imbavagliati in segno di protesta contro la cosiddetta circolare bavaglio. Crocetta intanto getta acqua sul fuoco aprendo i regionali. Già nei prossimi giorni incontrerò le organizzazioni sindacali. Sabato 8 febbraio con inizio alle ore 19 alla Putia in via Porcello si inaugura la mostra fotografa la sagra. In mostra le foto vincitrici di tutte le edizioni del premio fotografa la sagra che quest'anno celebra il suo quarto anno consecutivo. In particolare all'interno del locale saranno esposte su apposite stampe le gigantografie delle foto a colore in bianco e nero che sono state premiate nel corso delle precedenti edizioni. L'esposizione rimarrà in vetrina per tutto il periodo della saga del mandorle e fiore. L'inaugurazione avverrà la presenza dello staff di Agrigento Oggi, dell'editore Domenico Vecchio, di tutti i fotografi partecipanti e dei rappresentanti dell'associazione culturale COINEE e DIN24 che ha patrocinato l'iniziativa. Anche quest'anno la direzione artistica è stata affidata a Francesco Novara in concomitanza con l'evento prende via la nuova edizione del concorso premio fotografa la saga. A Agrigento hanno manifestato innanzi alla prefettura e alla provincia gli studenti del liceo classico Empedocle perché sono costretti in classe senza riscaldamenti ancora mai accesi da quando è iniziato l'anno scolastico. Gli studenti hanno incontrato il prefetto Diomede e il commissario in furna. A provocare lo stop sarebbe la mancanza di una certificazione dell'INAIL necessaria per omologare la caldaia dopo l'adeguamento alle norme di sicurezza. Bene, adesso la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, subito dopo. Lo sport, il calcio. Dopo la spettacolare vittoria contro lo Sciacca sono ripresi gli allenamenti in casa Sporting Racalmuto nonostante le condizioni precarie dell'illuminazione dell'impianto sportivo Giuseppe Lavandia, abbandonato alla sua incuria più profonda e da sempre non attenzionato da chi amministra il Paese. Il servizio. Il prestigioso successo ottenuto contro lo Sciacca, grazie ad una prodezza balistica di Manuel Milaneseo su punizione, ha rilanciato definitivamente le ambizioni play-off dello Sporting Racalmuto del presidente Totò Pitruzzella. Un campionato pieno di soddisfazioni per la matricola racalmutese allenata dal nisseno Alessio Sferrazza, tecnico giovane, ma con un bagaglio di competenza non indifferente in queste categorie che lo ha visto protagonista con le maglie di Nissa, San Cataldese, Aragona e San Sebastiano come calciatore. Dicevamo, non a caso, un lavoro oscuro, ma non per come si lavora, bensì per le condizioni ambientali a cui la squadra del Paese della Ragione deve sottoporsi nel corso degli allenamenti che si svolgono tre volte la settimana nelle ore serali. Le sedute di allenamenti infatti vengono svolte a lume di candela in quanto l'impianto di illuminazione è fatiscente e ridotto ai minimi termini. Da parte dell'amministrazione comunale regna la massima distrazione nei confronti di una realtà che merita certamente maggiore attenzione. Purtroppo è questa la situazione e dobbiamo fare di necessità virtù, dichiara Mister Sferrazza. La calmuto sportiva deve ringraziare questi pazzi dirigenti per quello che riescono a fare e questo gruppo di giocatori che si sacrificano in ore serali per tenere alta questa bandiera. Personalmente per poterci allenare con più luce ho provveduto a comprare alcuni accenditori per fare accendere alcuni fari spenti ma nessuno si degna di cambiarli. Peccato che non abbiamo un autocestello altrimenti avremmo provveduto noi stessi. Intanto lo Sporting racalmuto ieri sera, sempre al buio, ha ripreso la preparazione in vista del derby contro l'Aragona di Giovanni Comito, un match che si prospetta bello ed avvincente e che si giocherà allo stadio Totorrusso. Sarà una gran bella partita tra due squadre che non hanno problemi di classifica, dice il direttore generale Paola Laimo. All'andata fu l'Aragona ad avere la meglio, domenica cercheremo di pareggiare il conto anche se sappiamo che ci aspetta una partita difficile. Per il match contro l'Aragona sono previsti i rientri dell'ex Diego Giaconia che ha scontato la giornata di squalifica e il centrocampista Ogello, reduce da una distorsione alla caviglia. Difficile il recupero dell'attaccante Peppe Giaconia alle prese con una contrattura. Tutto pronto per il big match di domani sera alle ore 20.30 a Palamoncata di Porto Empeduche tra la Fortitudo Moncata Grigento e la Mobit Ferrara, rispettivamente prima e seconda della classifica del campionato di Adecco. Silber Stamani, conferenza stampa del coach francociano e del direttore sportivo Christian Maier nella sala stampa Gerlanto Micalizio del Palamoncata. Dopo aver nuovamente ricordato che la biglietteria del palazzetto verrà aperta due ore prima dell'incontro, allenatore EDS hanno discusso con i giornalisti su quella che sarà la sfida tra le due attuali migliori forze del campionato. Ferrara è una tra le più tattiche, ha detto Coacicciani, tra quelle che possono maggiormente incidere con scelte particolari nell'andamento di una gara. Abbiamo dovuto fare un lavoro molto accurato per cercare di essere pronti alla maggior parte delle soluzioni che potranno essere adottate. È chiaro che non ne sappiamo cosa ci proporranno come novità perché qualcosa di nuovo sicuramente ci sarà una partita molto delicata, un po' a scacchi, conoscendo anche il mio collega. Ci sarà da riflettere, da pensare nel corso dei 40 minuti. Il direttore sportivo Christian Maier si aspetta invece una grande battaglia che possa coinvolgere al meglio i tifosi. Il campionato di golf Andrea Rota, sessione di allenamento a Sciacca. Vediamo. Andrea, la seconda volta tua qui a Sciacca. Sì, è la seconda volta, amici. Sono affezionato, direi di sì. Allora, ho fatto una sessione di allenamento i primi di gennaio e adesso sono sceso prima delle gare che avrò in Egitto. A metà febbraio ho deciso di concretizzare e finire la mia preparazione qua in Sicilia, al Verdura. Il clima ben si presta per la preparazione atletica? Beh, direi che il clima è nettamente favorevole rispetto a dove abito io che adesso comunque nevica e fa freddo. Qua il clima è perfetto, anche adesso comunque al di là di un pochettino di vento si sta decisamente bene, quindi si riesce tranquillamente ad allenarci, provare il campo e anche tutta la preparazione, quindi palestra e company. Ecco, proprio, parlaci della preparazione, perché magari non tutti sono ferrati in questo sport. In cosa consiste la preparazione atletica nel poi arrivare pronti durante una gara? Allora, vabbè, diciamo che innanzitutto l'idea del golf non è uno sport prettamente atletico, l'idea che c'è è un pochettino questa. In realtà negli ultimi anni sta cambiando e per riuscire ad affrontare tutte le gare al meglio, quindi abbiamo 25-30 tornei all'anno, bisogna essere molto preparati anche fisicamente. La mia preparazione prevede una sessione di riscaldamento in palestra alla mattina, quindi stretching, corsa, lavoro aerobico, dopo di che tutto l'allenamento tecnico sul campo da golf, quindi provare tutti i vari colpi e si concretizza la sera con ancora una preparazione in palestra di un'oretta e mezza, due, per riuscire anche a potenziarsi e riuscire a tirare anche la palla un pochettino più lunga e più in modo costante e precisa. Ecco, parliamo del tuo prossimo impegno in Egitto. Sì, prossimi impegni ce l'ho in Egitto, avrò due gare dell'Alps Tour in Egitto e lì andrò a finire la mia preparazione in realtà. Dopodiché avrò una gara in Kenya del Challenge Tour, dove giocherò a tempo pieno, quindi il Challenge Tour sarà il mio tour di quest'anno e prevedo di giocare almeno 20-25 tornei sul Challenge Tour. Questo è uno sport, ripeto sempre da esterno e da neofita, che comunque si cingeva la prima volta. È uno sport di nicchia per pochi? Non più, in realtà non più. Una volta era più di nicchia, una volta non tutti si potevano avvicinare ai campi da golf. Adesso ci sono nuove strutture, ci sono molti più campi da golf, c'è sicuramente la possibilità di avvicinarsi al gioco del golf, per tutti, di sicuro. Tra le decine di campi che hai conosciuto in tutto il mondo, come si colloca questo alverdore? Ma allora, come campo è sicuramente uno dei migliori, è stupendo. Poi vedremo qualche immagine magari dal campo ed è sicuramente stupendo. È sul mare, il clima è stupendo e questo lo metterei sicuramente tra la top ten dei campi che ho visto. Quindi sì, mi piace molto. In bocca al luma. Crepi, grazie. Bene, è proprio tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo come sempre il nostro sito internet www.trs98.it. Grazie per averci seguito e vi lascio con le previsioni meteo. Un saluto da Alex Guarini di Trebimeteo.com Giovedì è l'insena di ampie schiarite su buona parte d'Italia, ma sarà soltanto una breve pausa perché poi già da venerdì una nuova perturbazione atlantica raggiungerà il nostro paese. Al mattino di giovedì ancora residui equazione all'estremo sud ed anche sulle regioni di nord-est con nevicate sugli Alpi a partire dai 700-900 metri. Ma partiamo con ordine iniziando dalle temperature minime che non subiranno particolari variazioni o al più un lieve calo sulle regioni settentrionali per via delle maggiori schiarite. Per quanto riguarda le massime, queste invece saranno in lieve rialzo al nord senza particolari variazioni al centro-sud dove guardate addirittura si sfiorano i 17-18 gradi in Sicilia. Ma entriamo quindi nel dettaglio per il nord che vedrà ancora residui e precipitazioni al mattino sui settori di nord-est con questa variabilità pomeridiana ancora sulle estreme regioni orientali. Ampie schiarite invece interessano i settori di nord-ovest ma attenzione perché in serata arriva una nuova perturbazione atlantica con primi fenomeni sugli Alpi occidentali. Al centro Ampie schiarite con residua nuvolosità a carattere sparso ma senza precipitazioni, nuvolosità che sarà comunque più frequente in prossimità della dorsale appenninica. E infine al sud ultimi fenomeni al mattino tra Calabria e sud-est in rapida attenuazione. Ampie schiarite poi avanzano nelle ore pomeridiane sia sui settori peninsulari anche sulle isole maggiori con cieli più sereni soprattutto sulla Sardegna. Aggiornamenti in tempo reale come di consueto su trebimeteo.com Aggiornamenti in tempo reale come di consueto su trebimeteo.com